Grazie a tutti. Nell'entroterra emiliano sta succedendo qualcosa di incredibile. Le valli si sono ripopolate di un animale schivo, ma che può essere anche molto aggressivo, il lupo. E la popolazione inizia a dare di matto. Ci vogliono far mangiare dai lupi? No. I lupi si devono abbattere. I miei genitori erano del 1893, non mi hanno mai parlato di lupi. Se entrano nel mio territorio io le faccio fuori. Col fucile, le faccio fuori col fucile. Sì. Ce n'è migliaia e migliaia. Emilio è esasperato come la gran parte degli abitanti della zona. Qui le case e gli allevamenti sono a contatto con i boschi dove vive il lupo. Le proprietà hanno sì le recinzioni, ma non adatte per questi super predatori, che le saltano e di notte attaccano. A rimetterci la vita in questo caso è un cagnolino. Eh sì, perché oltre a papparsi gli animali del bosco, sentite cos'è successo a Raffaella. Il lupo mi è saltato dentro e mi ha mangiato completamente una capra. Tu lo hai visto il lupo? Noi non l'abbiamo visto, abbiamo visto le orme per terra. In questa zona quante predazioni ci sono? Quattro o cinque predazioni a settimana. E in effetti abitare in un posto e avere a che fare quattro o cinque volte a settimana con gli attacchi dei lupi, Certo, non è vita facile. Capiamo perfettamente Claudio che ha quest'agriturismo dove tiene un sacco di animali. Tutto è recintato con strutture abbastanza pesanti, ma non troppo per il lupo. Il lupo ha buttato giù la rete. Facendo banchetto con i suoi animali. Ce n'erano più di uno, ce n'erano quattro o cinque. Anche l'altro giorno ho traversato lì la strada, ero lì col trattore, l'ho guardato un po', quando ho messo in modo il trattore è schicciato via. Ho paura che facciano qualcosa ai bambini, che facciano la gente. Certamente non posso andare a prendere il fucile perché contro la legge sono protetti. Se mi attacca allora vi difendo. Lì dove c'è quella pianta è dove mi hanno ucciso i lupi, questa pony. Abbiamo avuto le predazioni di oltre cinquanta cani durante le azioni di caccia. Mentre stavano inseguendo gli animali, abbaiando, quindi il cinghiale, la lepre, quello che sia, sono stati aggrediti dai lupi e mangiati. Ce ne ho mai visto uno? Di proprio in piazza. Gira anche intorno alle case? Sì, sì, hanno ucciso i due cani. Dobbiamo fare in modo che l'animale non giri per le strade di notte dove giriamo noi. Lo dobbiamo catturare e portarlo fuori dalle scadole. Vivendo qui ti entra in testa la paranoia che da un momento all'altro ti possano attaccare. Hai paura a lasciare i bimbi giocare all'aperto? Ti vedi sbranare gli animali a cui vuoi bene? Oltre ai piccoli allevatori che perdono più di mille euro a capo. E anche a noi sale un po' la paranoia mentre stiamo intervistando Emilio. Voglio colpire, colpire di non lasciare padronare i lupi. E suo fratello che ovviamente se incontra un lupo... Eh, se c'è un uccello ci sparo. Improvvisamente a furia di parlare di spari e di lupi... No, mi sembrava anche a me... È un cane, è un cane nero. E meno male, però a furia di pensarci con tutti questi lupi in giro non possiamo non vederne uno da vicino. Così, insieme a questo cacciatore esperto, andiamo di notte nei boschi alla ricerca del super predatore. Se si avvicinasse a te un lupo, tu sapresti come comportarti o te la faresti sotto? Io sono sincero, io giro sempre nel bosco col coltello. Da cazza. Massimo prenderà il braccio sinistro, però e dopo il lupo ce li vale. Io l'autodifesa me la faccio da solo. Beh, siamo in buone mani. Arrivati dove dovrebbero esserci i lupi, troviamo tante belle cacche. Che non sono come quelle di cane, sono piene di pelo degli animali che si sono mangiati. È il giusto segnale, vuol dire che i lupi sono qua intorno. Quindi decidiamo di installare delle fototrappole. Questo strumento tanto tecnologico quanto efficace. All'interno c'è una fotocamera di infrarossi che si aziona con un sensore di movimento. Cioè, ad ogni passaggio nel campo d'azione scatterà una bella foto. Da qui alla prima casa quanto c'è di distanza? 500 metri. Ne installiamo una su quest'albero. Ci assicuriamo che tutto sia pronto e ce ne andiamo. Dopo mezz'ora sul posto arriva un lupacchiotto solitario. Noi eravamo lì alle 22.30, lo scatto è delle 23. Insomma, queste terre sono veramente pieni di lupi. Cerchiamo di capire qualcosa in più su questi animali. Francesca è una massima esperta. Li studia da una vita in laboratorio e nei boschi. Le chiediamo, ma i lupi sono davvero pericolosi per l'uomo? Da sempre ci hanno insegnato che il lupo è questa figura da temere. Però il lupo non è pericoloso. Se uno ha visto un lupo, cosa deve fare? Rumore, eccetera, il lupo se ne va. Certo, se ne va dall'uomo. Ma esiste un modo per tutelare i propri animali? Vengono citate le reti, elettrificate. Che sono queste? Se un lupo si avvicina per saltarle, prende una leggera scossa e torna indietro. E l'altro modo per proteggersi? I famosi cani da guardiania, quei cagnoni bianchi. Insomma, in mare mani, pensate che in questa fattoria dove ce ne sono tre, perfino gli animali selvatici si sentono protetti. E li vediamo, belli spaparanzati, a godersi la vita. Questi sono i consigli degli esperti per convivere con il grande predatore. Però chi vive sul territorio e ha raccolto 9.000 firme, la pensa in maniera diversa. Ci propongono i cani antilupo. Sono aggressivi nei confronti dell'uomo. Cosa facciamo? Ci salviamo dal lupo e ci facciamo mangiare dai cani antilupo? Questa valle siamo sempre stati abituati ad averla libera. Come è stato cent'anni fa, con le nostre bestie al pascolo, senza recinti, senza niente. Se vogliono i lupi, si facciano il recinto per i lupi, non che le dobbiamo fare per le nostre bestie. Ma alla fine, se questo è un animale selvatico che sta nei boschi, perché ce lo ritroviamo davanti a casa? I territori in montagna non sono più disponibili perché sono occupati da branchi di lupo. Ogni branco occupa spazi immensi ed è composto generalmente da 4 o 5 esemplari. Il gruppo difende il suo territorio, uccidendo gli altri lupi che lo invadono. E così i giovani in cerca di spazi selvaggi, non trovandoli, scendono a valle. Entrando, come abbiamo capito, in conflitto con l'uomo. Tant'è che chi va per boschi questo conflitto lo risolve così. Stanno fette e ne abbiamo già ammazzati 15. 15 lupi avete ucciso. Si fa con un filo, lo attacchi all'albero, almeno un metro e mezzo sopra, gli metti la carne fresca nel ramo, quello da pesca. Il lupo salta, si attacca. A quel punto per staccarsi dal ramo deve per forza strappare tutto il labbro e a fine di girare nel bosco si infetta. Gli viene un'infezione e muore. Poi non lo tiriamo neanche su, lo lasciamo lì. A quel punto passano gli altri animali che se lo mangiano. Troppo nei bognoni. Ho capito, però a neanche ucciderli trovate un'altra soluzione. E questa è l'unica soluzione ad oggi questa. Ma lo sapete che rischiate anche di finire in galera? Il livello di braconaggio e pressione sul lupo è alto. Abbiamo trovato uno la settimana scorsa avvelenato. Potrebbe essere proprio il lupo alfa del branco, il maschio, diciamo così, il papà del branco. Ucciso con la classica polpetta velenosa che ammazza l'animale dopo ore di agonia. È la tecnica più subdola, schifosa, che può utilizzare un bracconiero che vuole eliminare i grandi carnivori. Il dibattito ovviamente è complesso. Dovrebbe essere garantita una vita normale agli abitanti di questa valle e dovrebbe essere garantita pure la vita del lupo. A tutt'oggi nulla è stato fatto. C'è qualcuno che ha delle idee?